All'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale ci sono gli esestamenti di bilancio, un punto assolutamente fondamentale in attesa peraltro dello stesso parere della Commissione competente del Consiglio Comunale chiamata a riunirsi nelle prossime ore. Ieri sera la seduta era senza numero legale, presenti per la maggioranza soltanto Paolo Mandracchia e Giuseppe Ambrogio. Si torna in aula oggi in seduta di prosecuzione, a quanto pare è una sorta di strategia quella che la maggioranza ha deciso di perseguire nel tentativo di fronteggiare un problema politico, ossia quello relativo alla propria autosufficienza. Il recente addio di Cinzia Deliberto e di Carmela Sant'Angelo non permette più alla coalizione che sostiene Francesca Valenti di disporre dei numeri necessari. Consigliere Mandracchia, lei ieri sera era in aula? Sì, io partecipo sempre al Consiglio Comunale, tranne nei casi in cui ci sono impedimenti di carattere personale o lavorativo. sinceramente non penso sia ormai differibile la comunicazione alla città che la maggioranza non ha i numeri per essere autosufficiente. Quindi lei sta dicendo che la maggioranza sostanzialmente tra le righe sceglie di fare le sedute di prosecuzione per approvare punti in Consiglio Comunale, dove è necessario è necessario un numero inferiore di consiglieri presenti? Sì, questa potrebbe essere una strategia, ma in ogni caso non c'è solo la tenuta del Consiglio Comunale, c'è anche una scelta all'origine che riguarda le commissioni. Molte delle commissioni vedo la presenza di due componenti della maggioranza e due dell'opposizione e quindi capisce benissimo che se ci sono due assente non si possono celebrare i lavori. Ma io su questa vicenda della commissione bilancio ancora sono fiducioso perché spero che anche stasera durante i lavori d'aula si possa celebrare l'attività della commissione e rendere il parere. Indipendentemente se il parere è positivo o negativo, avendo reso il parere si può trattare il punto in Consiglio Comunale. Quindi evitare che quelle cose che sono programmate nella variazione di bilancio possano rimanere bloccate. Questo secondo me è un ostusio che si deve ancora portare avanti fino all'ultimo minuto. Questa sera dunque si torna in aula quando sarà necessario un numero inferiore di presenti per poter andare avanti, ma a giudizio di Paolo Mandracchia, rimasto in maggioranza dopo la sua sostanziale destituzione dall'Aggiunta, occorre compiere un passo in avanti sul piano politico e non manca la stoccata polemica. Sul piano politico però lei dice che la maggioranza non ha più i numeri. Ammetterlo che cosa mi seguirebbe? Ammetterlo significa ammettere la realtà dei fan.